Il pannello di gestione di Aruba Drive prevede una sezione dedicata alla gestione delle attività, che ti consente di visualizzare e gestire tutte le attività personali o del team e assegnare priorità al tuo lavoro. Vediamo come. Per iniziare dal menu in alto, clicca su Task. Da questa schermata hai la possibilità di aggiungere un elenco, vale a dire una categoria a cui associare un'attività, contrassegnandola con un colore. Inoltre puoi aggiungere un'attività ad un elenco specifico. Per farlo ti basterà selezionare l'elenco a cui desideri associare l'attività, posizionare il cursore nel campo indicato e digitare il nome da assegnare all'attività. Premi il tasto Invio sulla tastiera del computer per confermare. L'attività è stata creata e inserita in elenco. Ad ognuna delle attività puoi aggiungere una sottoattività. Aggiungerla tra i preferiti o eliminarla. Inoltre ogni elenco creato può essere condiviso con altri utenti abilitati. Può essere modificato, esportato o eliminato. Puoi gestire le impostazioni dei task. Ti basta cliccare sulla voce Task Settings, presente nel menu laterale a sinistra, e abilitare le opzioni più adatte alle tue esigenze. Infine, con lo strumento cestino, puoi visualizzare o recuperare tutti gli elementi eliminati cliccando su Ripristina, in corrispondenza dell'elemento che vuoi recuperare.